Benvenuti a tutti ragazzoli e bentornati in questo nuovo video, episodio numero 41, signori, della nostra avventura su Minecraft. Allora, io sono rimasto dove praticamente ci siamo lasciati ieri, ovvero davanti il bastione che abbiamo trovato, signori, trovato. Ebbene, ebbene, signori, ho deciso che lo esploreremo in maniera molto piena di paura, però ci lanciamo dentro, signori, ci lanciamo dentro. Ora, cerchiamo un attimino, oh, qui c'è dell'oro, qui c'è, di qua già si scende, ok. Il problema è che non so se ci sono quelli, i bruti brutti, che ci possono ammazzare già subito, questo è un particolare che dovremmo cercare. Lì già c'è una cassa? Spettacolo, signori. Mi hanno trovato già il tesoro? Ma stiamo scherzando? Ok, tu lì mi fai paura, quindi, aspettate un attimo, facciamo una sorta di chiusura, perfetto, zio, ti chiudiamo lì, così di sicuro non rompi le scatole. Ok, l'abbiamo trovato già così il tesoro? Subito, una cassa diretta? Mi piace questa cosa? Allora, signorino, chiudiamo un attimino pure questa zona di qua, così nessuno ci vede, questa a noi interessa parecchio. Però lì sotto c'è il... Aspettate, perché di qua... Allora, noi abbiamo gli stivali, quindi non abbiamo paura di muoverci vicino a loro. Qui c'è niente? No, 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 però qui c'è lui, e va bene. Zio, mi dispiace, ma ti richiudo lì dentro. È stato un piacere conoscerti, ma rimarrai lì dentro. Morirai lì, zio, morirai lì. Allora, non perdiamoci in chiacchiere, signori, là c'è una bellissima cassa alla quale noi ci avviciniamo quatti quatti. Sì, perché il terreno è diverso, sì. Abbiamo beccato subito il tesoro senza neanche... senza neanche troppo sforzo. Diciamo, vediamo questi... Ah, questi mi prende il blocco? Pietra dorata? Ah, è pietra dorata, non sono i blocchi. Pensavo mi desse sempre i... come si chiamano i... questi sono pure belli, i ganzi questi. Ce li portiamo pure a casa. Dici, ma che te ne devi fare? Non lo so, però sono ganzi. Continuiamo un attimo l'esplorazione, signori, di qua. C'è qualcuno che da quel lato può rompermi le scatole? No, allora ci vediamo pure questi blocchi dorati di qua. Blocco dorato di qua, mi piace, mi piace. Andiamo a vedere che c'è nella cassa, signori, attenzione. Andiamo a vedere che ci sta nella cassa, speriamo qualcosa di interessante. 3, 2, 1... BAM! Progresso compiuto, al ladro, signori, abbiamo beccato la cassa, spettacolo, abbiamo beccato, ma non ce ne sta un cazzo praticamente. Costretta di maiale, blocchi di pietra dorata, qualche carota d'oro che ci può tornare utile, un blocco di ferro e un'accetta con affilatezza. Ok. Le carote d'oro ce le mettiamo pure qua, perché se questi gli viene di attaccarci, ci ammazzano male. Ok. Proviamo a salire verso sopra, signori. Abbiamo trovato il tesoro. E questo già è una cosa importante. Ora, però, tu mi devi... No, aspetta un attimo. Mi devi dare i blocchi da costruzione, però, perché noi li dobbiamo tenere in mano, perché dobbiamo essere veloci a chiudere, perché là già vedo cacciara. E questa cosa non va bene. Perché il problema non sono tanto i piglin, il problema sono i bruti. E lì vedo tanto movimento che non mi piace. Non capisco se stiamo parlando... Sono un po' incazzatelli. Può essere impressione mia, sono un po' incazzatelli. Non so con chi ce l'hanno, se ce l'hanno con me o se non ce l'hanno con me. Però penso che questa già mi avrebbe dovuto vedere. Ho un attimino di paura a salire qui sopra. Salve, buongiorno, vengo in pace. Ho gli scarponcini d'oro. Sono agitatissimi, sono uno dei vostri. Se questi per pura sfortuna decidono di attaccarmi, signori, è finita. E' finita. Allora, di qua secondo me si può andare. Ok. E li abbiamo fatti contenti. Sì. Volevano una strada per... Per risalire. Ok. Io mi sto... Lettramente è cagando in mano, signori. Non so se si capisce dal come mi muovo piano. Dal come mi muovo piano. Perché se becchiamo uno di quelli con l'accetta è finita. Aia! Ecco, tipo lui, tipo lui, tipo lui, signori. No, non ci credo, non ci credo, non ci posso credere, non ci posso credere. Tutto quello che poteva succedere e cadere nella lava è stato l'errore più grosso. Tra l'altro qua c'era un gradino. Ci saremmo potuti salvare. Ma porca. La mela, la mela incantata. L'armatura di diamante. Il piccone. No, mamma mia. È inutile anche cercare di tornare a riconquistare, a riprendere qualcosa qui, praticamente, signori. Perché siamo caduti nella lava, sei morto, ma lì sei stato fatto credere da un friggin' brutto. Io lo sapevo, lo sapevo, che lo sapevo io, mannaggia a me. No, sapevo, io dovevo bloccare quella strada, invece non l'ho fatto. Non l'ho fatto, la mela incantata, abbiamo perso, signori, la mela incantata. Ma perché io nel Nether non riesco, abbiamo perso tutto, abbiamo perso tutto. Abbiamo perso tutto. Non saprei veramente come tornarci qua, signori. Non, dovrei, dovrei, non hai ancora, non hai alcun letto. Ah, ottimo. Dove cazzola mi ha fatto spawnare? Sopra un albero, sopra casa nostra, ok. Perché sopra un albero, sopra casa nostra? Però, vabbè, come dici tu? Abbiamo perso tutto, signori, abbiamo perso tutto. Sopra l'albero della vita siamo spawnati, ok. Abbiamo perso tutto, sono disperato, sono disperato, abbiamo perso tutto. Meno male che non l'avevo portato con me il piccone con fortuna. Dimmi che qua è il mio piccone con fortuna, ok. Il piccone con fortuna c'è, abbiamo solamente nove diamanti. Non abbiamo perso il, no, la mela dorata, abbiamo perso, abbiamo perso tutto. Tra l'altro i cuori stavano scendendo in maniera pesantissima, quindi... Sono disperato, sono disperato, sono abbastanza disperato, signori miei. Potrei andare... Potrei tentare... Potrei cercare di tornare là, ma per fare cosa? Per fare niente. Non abbiamo... Non ho più neanche cibo, non... Non ho niente. Come ci torno? Ok che... Ok che... Allora, se io rimango qui, i cianchi da quel lato non sono caricati. Quindi, noi potremmo un attimino riprenderci la nostra armatura. Dammi tutto quanto. E dai, caspiterina! Ridammi tutto questo. Ma ma gli estremi, signori, recuperiamo la nostra armatura, la nostra affidata armatura. Ok. E... Abbiamo una spada di pietra, ok? Una zappa, perfetto. Dobbiamo farci un piccone. Dobbiamo farci un piccone. Ferro io ne ho, sì. Ne abbiamo 22. Quindi cuociamo un pochino di ferro. Allora, no, mi serve del carbone. Possiamo provarci, signori. Possiamo provarci. Non è detto che ci riusciamo, però. Non è assolutamente detto che ci riusciamo. Perché dobbiamo provare a tornare seguendo le torce. Perché, tra l'altro, io non ho nemmeno una coordinata di quella fortezza, di quel bastione. Ma porca miseria. Ma porca miseria. Ma porca miseria. Recuperiamo mentre la carne cuoce. Recuperiamo al volo un po' di materiali. Al volo un po' di materiali. Dai. Abbiamo il carbone. Abbiamo preso il legno. Facciamo un po' di torce. Mettiamo a cuocere un po' di ferro. Zio, spostati. Ma porca miseria. 3, 4 costolette. Dammi un'altra. E poi mi metti il ferro a cuocere, zio. Mi metti il ferro a cuocere. Dai, 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 dai. Dai, dai. 5 costolette però mi basta. Cuoce un po' di ferro così vediamo di fare... Un piccone, quantomeno. Quanto meno un piccone. Ma porca miseria. Ma porca. Non ci posso credere. Non ci posso credere. Lo sapevo che se spuntavano quei maledetti. Lo sapevo che se spuntavano quei maledetti era finita. Dobbiamo farci no. Prendiamo questo. Lo mettiamo sull'altro binario. Rompiti, rompiti. Ok. Mettiamolo lì così siamo pronti a partire. L'unica speranza è che... Si sia salvato qualcosa. L'unica speranza è che si sia salvato qualcosa magari cadendo di lato. Cadendo... Cadendo di lato ma non penso, signori. Non penso. Perché comunque qualcosa sarà comunque scoppiata. Mannaggia a me, mannaggia a me. L'ho già detto, mannaggia. Mi sto disperando tantissimo. Mi sto disperando tantissimo. Non potete capire. Non potete capire. Come è messa la mia armatura. I pantaloncini sono buoni. Fammi degli stivaletti di ferro. Tra l'altro sta venendo giù un notte. Non ce ne frega assolutamente niente. Cuocimene altri due. Dai, dai, dai. Cuocimene altri due. Dai, uno. E poi rimettiamo a cuocere questa canna. Vediamo se riusciamo a prenderci un altro bisteccozza al volo. Ok, vai. Un altro bisteccozza al volo, zio. Dai, 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 dai. Non ti fare pregare. Non ti fare pregare. Pregare. Non ti fare pregare. Dai, 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 dai. Facciamoci gli stivalotti. Non qui, però. Qui. Ok. Mettiamoli a posto di questi. Che comunque quelli ci riportiamo per sicurezza. Quante me ne hai fatte? Due. Va bene. Dormiamo. Dormiamo al volo. Perché sennò poi da quel lato Gli zombie Gli schienano di distruggere tutto il villaggio, signori. E andiamo. Partiamo. 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 Vi taglio tutta questa parte di qua. Ci rivediamo quando sono nel nether, signori. Incrociamo le dita. Incrociamo le dita. Ok, signori. Ce l'abbiamo fatta. Siamo tornati alla fortezza. Sì, alla fortezza. Al bastione. Porca di una miseria. Levati. Pigni di... Me la prendo pure con te. Fatemi passare di qua. Via. Via. Con calma. Ok. Calma e sangue freddo. Calma e sangue freddo, signori. Dobbiamo semplicemente rifare la stessa strada di prima. Ma anche no. Allora, noi eravamo saliti di qua. Ok. Quel maledetto da dove è uscito? Quel maledetto è uscito da qua sopra. È giusto? Sì. Quindi, se noi intanto racchiudiamo questa parte di qua. Bella, tranquilla e coccolosa. Apriamo di qua. Noi dovremmo avere il vuoto di lava. È giusto? Ovvero il punto dove siamo caduti noi. Dove siamo morti noi volando giù. È giusto? Perché non lo vedo? Perché non c'è il punto da dove siamo caduti noi? Noi. Noi. Io devo un attimino capire dove cazzo allora siamo, signori. Devo un attimino rifare mente locale. No, 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 no. Dove cazzola siamo caduti noi? Porca di una... Miserie infame. Siamo saliti di qua? No! No, siamo... Signore, vorrei dire di chiudere adesso questo video qui. Perché avevamo recuperato il piccone. C'era il piccone di diamante, l'ho visto. L'abbiamo preso al volo e siamo morti nella lava col piccone di diamante. Quindi questa volta il piccone ce l'abbiamo perso per sempre. Quindi io direi che per questo video è tutto, signori. E basta. Noi ci vediamo sempre qui domani per un prossimo appuntamento sul canale. Bella raga. Ciao!